Devo dire una cosa stupida prima di aprire il video, fate conto che perdo sempre due minuti per questa cosa ogni volta MILANZANE Salve a tutti e benvenuti in questo 34esimo episodio di FIFA Carriera Nenatore Ci dobbiamo dare una mossa perché se voglio finire il primo in campionato prima di FIFA Non ce la farò mai ma proviamoci almeno ROMATOTTEAM Chiamatemi pazzo, seguite il vostro consiglio, non c'è Suarez, ho messo Balotelli Punta Ok non gioco da un bel po' No, FE-FE! Balotelli ricopre palla, Balotelli, Balotelli! Non ci credo Oh, oh, no! Che problemi ho oggi, che problemi ho? Ronaldo ne salta uno, Ronaldo Ronaldo perde pa- ma che cosa? Ronaldo cretino! Cristiano! Ma porca miseria che giocatore schifo è! Consigliatemi intanto la squadra da scegliere in FIFA 16 Non esagerate come tipo la Roma Willi alla cross al centro, Ronaldo! Oh, mannaggia! E finisce il primo tempo, 1-0 per il Tottenham Mimor la mette per Ronaldo! Non ci posso credere! Calcio d'angolo, faccio di testa sole! Mannaggia! Ronaldo con il pallone, Ronaldo con... Deficiente! Ronaldo fa pena! Abbiamo perso e non perché non so utilizzare la squadra! Perché fanno schifo! Ma come, Exit è la squadra più forte di tutte! Fa schifo! È tornato Suarez! Torino-Roma! E vediamo cosa succede! Vai Suarez, confido solo in te! Suarez ci prova! Bravo Suarez! Gritta! Bravo! Rona... Deficiente! Non devi fare queste cose! Falle bene! Suarez! No! Ma mannaggia! No! 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 Ma che cosa? Ma che rovescia... Se... Mamma mia! Guarda! 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 Neymar la cross al centro per Cristiano Ronaldo! Finalmente! Ma frega poco! Frega pochissimo! Stiamo per dentro! Senti! È già la seconda! Ho perso di nuovo! Ho perso anche quella prima! A casa! A casa! Meno male che esce FIPA 16! Siamo undicesimi! E quindi Fiorentina-Roma! Non ha senso! Ha senso! Non dobbiamo assolutamente più Ronaldo! Suarez! No! 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 Uuuu! Cosa? Non è vero niente! Marcelo sul primo palo! Pallone tirato! E Marcelo la prende! Suarez può fare una bella azione! E la passa per Neymar! Neymar è passato! Neymar! Neymar! Riberilla cross al centro! Ci arriva Suarez! 1-0! Segna solo di testa! No! Ma porca miseria! Meno male che c'è Neuer! E finisce il primo tempo! Finalmente per me 1-0! Suarez! Partite in un mezzo contropiede! Suarez! Suarez è riuscito! Suarez la passa per Neymar! 1-2-0! E vai così! Lado sotto pronto! What up! Non l'ho preso! E la passa! Guarda i miei tifosi! Salve! Cristiano! Pizzlec la cross al centro per Suarez! Che la para in Neymar! No! E finisce 2-0! Finalmente 3 punti! Valotelli vuole giocare la prossima partita! Lo faccio giocare dopo! Siamo ottavi! Roma-Sampdoria! Le due squadre con usato in questa 6! E basta! La lancio a Suarez ed è perfetto! Suarez al volo! Vai! Dobbiamo vincere! Che cos'era? Che voce? Ronaldo la mette per Suarez ma è fuori gioco! Yeah! Abbiamo segnato! Pallone viene messo in avanti per Cristiano Ronaldo da solo! Ronaldo! Finalmente si rende utile! Grazie a voi che mi avete detto di metterla in quella posizione! Pallone viene preso per Marcelo! Marcelo la crossa! Per Suarez! Oh! Cosa l'ha fatto Ronaldo? Pogba batte il calcio d'angolo! Ci arriva Sole! E finisce il primo tempo 1-0 di nuovo! Va benissimo! È entrato Mayuca! Neymar la mette! Ronaldo! Ma non ci credo cosa ha sbagliato Ronaldo! No, 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 no! Pallone viene messo in avanti per Suarez, Suarez, Suarez! Si ne anticipa Ronaldo! Ma come me ne salva tutte! Non ho convocato Balotelli! Ops! Oscar la crossa al centro per Ronaldo! Ma no! E finisce 1-0! E perché non 2-0? Ma vabbè! 1-0 ci accontentiamo! E va bene dire di chiudere qui l'episodio! Grazie a tutti per avermi visto! Io continuerò a registrare di fila! Quindi se mi commentate Hai lasciato indietro un babuino! Non potrò saperlo! E quindi grazie a tutti! Ciao! Watch out!